Allora, ogni venerdì c'è una trasmissione su Radio Popolare che si chiama 37.2, condotta da Vittorio Nolietto e Nella Mordiglia. Io quando riesco l'ascolto sempre, perché dà un'informazione utile, soprattutto sui casi di mala sanità. Ritengo che sia una trasmissione utile, soprattutto in questi momenti in cui ammelarsi sembra che possa essere un diritto dovuto solo a chi ha amicizie o soldi, altrimenti meglio rinunciare. Sono arrivati a una prestigiosa nomination, alla Diversity Media Howard, un prestigioso riconoscimento che premia l'inclusività nelle produzioni audiovisive. Per vincere però bisogna dei nostri voti, dei vostri voti, quindi io vi invito a farlo, il 10 maggio sul sito che trovate anche se andate sul sito votazione 2024 Diversity Media Award, la trovate. Fatelo perché è utile, perché ci permette forse di dare un riconoscimento giusto a una trasmissione, questa sì gratuita, di cui usufruiamo tutti, e che non è privata a pagamento. Fatelo!